Primo giorno in Amaranto per il nuovo presidente Mauro Ferretti che poco fa nella sala stampa del Comunale ha presentato programmi e progetti per il futuro prossimo e anche più lontano. Riprendere il discorso con il villaggio Amaranto, anche se non è una questione tra le più urgenti, vincere il campionato, cercare di dare serenità alla squadra e riportare soprattutto entusiasmo fra i tifosi. Svelato anche quello che sarà il nuovo organigramma con Ferretti alla presidenza, con De Martino alla vicepresidenza e Dio Guardi nel ruolo di direttore generale. Presidente Mauro Ferretti, il primo giorno per lei a capo dell'Arezzo, insomma le chiedo innanzitutto sensazioni, stati d'animo, ha incontrato la squadra, lo staff tecnico, poi i giornalisti. Che idea si è fatta di questo Arezzo che dovrà dirigere per il futuro? L'idea è ottima e piena di entusiasmo, che forse non me l'aspettavo nemmeno io da me stesso proprio, è una cosa che mi piace e sono sicuro che mi coinvolgerà. L'accoglienza è stata molto carina da parte di tutti, quindi ringrazio tutti e spero di meritarmi la fiducia, ce la metterò tutta. Ti racconti un po' com'è nata questa possibilità che lei diventasse il presidente dell'Arezzo, insomma a chi dobbiamo dare la colpa? Dio Guardi e De Martino prima ha detto lei. Sì, allora, queste cose, ma io ho un filo conduttore strano in tutte le mie cose nella vita, che le cose nascono così o per gioco oppure quelle cose che dici ah ma che scherzi, ma che dici e poi invece diventano realtà. Però la cosa positiva che mi fa pensare bene è che tutte le cose nate così con appunto Dio Guardi e De Martino e poi diventano invece cose serie. Quindi io intendo fare il massimo di quello che potrò fare a lunga scadenza perché la cosa che non ci tengo a precisare è che non sono un traghettatore. Cioè ecco giugno non è finito niente, anzi a giugno cominciamo davvero.